ciao a tutti e benvenuti nella cucina del mio home restaurant oggi andrò a preparare una base dell'acqua di pomodoro semplicissimo però sta diventando di moda è molto utile per dare un gusto di pomodoro al piatto senza farlo vedere che si può anche trasformare in un caviale di acqua di pomodoro una gelatina molto semplice però molto bella da vedere anche molto gustosa ci serve solo dell'aglio del basilico e del pomodoro maturo io metto aglio e basilico ma si può aromatizzare un altro quindi ciotola mettiamo l'aglio il basilico e cominciamo a tagliare i pomodori facendo attenzione a togliere la parte del picciolo che non è buona e poi andremo a fare dei pezzi un filo d'olio e in frigo per una notte intera ed ecco qua il risultato come vedete c'è già un po di liquidino ma andremo a togliere l'aglio e a passare con un mixer immersione tutti i pezzi rimasti interi passatelo molto bene e poi con un collino a maglie fine e un collino in panno andiamo a passare tutto il nostro composto con un po di pazienza un po di acqua si sta già formando ma poi basta metterlo in frigo per almeno 4 5 ore vedrete che si formerà tutta la vostra acqua di pomodoro poi aggiungeremo un po di zucchero per togliere l'acidità un po di sale e siamo pronti ancora un po di pazienza questa la mettiamo in frigo in modo tale da far lasciare l'acqua di pomodoro con calma questa è quella che è già uscita avete visto è un'ottima base per condire i vostri piatti per mettere un po di gusto di pomodoro un po di acidità senza far vedere il pomodoro io lo uso molto a volte la trasforma in gelatina o in caviale per decorare potete vedere poi nelle schede allegate come fare sono quei piccoli trucchi quei particolari che fanno svoltare il piatto trasforma in un piatto gourmet come sempre ci vuole un po di tempo però per chi ha passione per chi ha voglia non ci sono problemi vi aspetto per i prossimi video ciao da andrea